Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro Morire con nulla di Bill Perkins. Perkins è un noto imprenditore statunitense, questo è il suo best seller che ci insegna come gestire le nostre finanze in modo totalmente diverso e innovativo per comprare quello che Perkins chiama esperienze significative. Andiamo a vedere concretamente di cosa si tratta in questo breve riassunto. Cosa significa morire con nulla? Perkins spiega dei concetti molto interessanti sostenendo che tutti lavorano per guadagnarsi da vivere, pagare l'affitto, le tasse, comprarsi da mangiare, vestiti, eccetera. I soldi che risparmiamo, secondo lui, devono essere investiti nell'acquisto di esperienze significative quando siamo ancora giovani. Lui fa un esempio. Se moriamo all'età di 85 anni e abbiamo 10.000 euro in banca, che sarebbero molti mesi di lavoro, questi soldi rappresentano le esperienze che non abbiamo vissuto, come ad esempio 5 vacanze aggiuntive. Qui nascono alcune domande come ad esempio perché non risparmiare denaro per la vecchiaia, perché non lasciare soldi ai figli o dare denaro in beneficenza. Perkins afferma che questo libro non è per le persone che hanno questo tipo di mentalità, è adatto a coloro che vogliono vivere esperienze uniche e godersi la vita. Perché dobbiamo investire in esperienze? Perché così aumentiamo il nostro potere di guadagno. Lui dice che il valore che 20 euro hanno all'età di 20 anni non è lo stesso paragonato a quello che questa somma ha all'età di 40 anni, dove magari potreste avere una casa di proprietà, figli, molti più introiti, eccetera. Quindi, con il passare degli anni, la capacità di guadagnare più denaro aumenta, mentre la felicità che si ottiene spendendo pochi soldi o 20 euro diminuisce. Per questo il denaro bisogna spenderlo ora e non tra 40 anni, quando il valore e la felicità che ne otterrete sarà molto più basso. Dividendi della memoria Ogni esperienza ci dà un ritorno dell'investimento perché oltre all'esperienza creiamo anche ricordi associati alle esperienze che abbiamo avuto e questi ricordi li possiamo conservare nel corso degli anni. Se fate un viaggio in Africa all'età di 20 anni avrete probabilmente altri 60 o 70 anni per godervi quell'esperienza attraverso i ricordi e anche le conversazioni con le persone con cui avete speso il tempo. Se invece decidete di lavorare qualche anno in più per guadagnare e risparmiare di più e fare quel viaggio tra 20 anni, magari all'età di 40, sarà comunque una bella esperienza, ma avete perso 20 anni di esperienze positive, quindi 20 anni di ricordi e di conversazioni riguardo a quel viaggio. L'età avanzata potrebbe essere un ostacolo. Quando siete anziani potreste avere più sicurezza finanziaria e più tempo, ma la salute può essere un ostacolo per fare quello che desiderate fare. C'è chi dice ancora 10 anni di lavoro e potrò finalmente godermi la vita. Molte persone lo dicono, specialmente 50 anni, 60 anni. Il fatto è che non si può avere la certezza di poter fare quello che vorreste fare in futuro. Avete la certezza di poter controllare solo il vostro presente, ossia questa giornata e come decidere di agire durante questa giornata, come spendere questa giornata. Anche in questo caso, come nel potere di guadagno, possiamo guadagnare di più con il passare degli anni, ma la salute peggiora. Non necessariamente non dovremmo avere nemmeno un centesimo in banca quando moriamo. L'idea qui sta nel pensare due volte prima di decidere cosa fare in futuro. Se ad esempio tendete a risparmiare 1000 euro al mese, ma cercate di ridurre questa cifra provando a portarla al 500 e fate qualcosa con quel denaro, magari insieme al marito o alla moglie, quindi cercate di ridurre i risparmi e aumentare i viaggi o gli hobby fino a trovare il bilanciamento perfetto per voi, dovete, secondo Perkins, continuare a ragionare, a pensare, a provare nuove formule, per quanto riguarda i vostri risparmi, per trovare la giusta bilancia. Magari dovete, il meglio per voi sarebbe risparmiare il 15% di quello che risparmiate oggi, o il 30% o il 40%, dipende da come ragionate. Le persone tendono ad essere avverse al rischio e pensano che il futuro sia più importante. Per questo dobbiamo risparmiare il più possibile per ridurre i rischi, vivere più tranquilli, eccetera. Ma questo porta queste persone a non considerare le gioie della vita. Ragionano sempre in termini di rischi, ma non in termini di esperienze positive o di felicità. Perkins tratta questa filosofia di vita da diverse prospettive. una delle domande principali è cosa succede se rimango senza denaro. Tutti vogliono avere risparmi e una casa propria. Il problema, secondo Perkins, sta nel fatto che molte persone risparmiano molto di più di quanto riusciranno a spendere durante la pensione. Per questo vale la pena fare dei calcoli e cercare di creare un piano preciso. Oggi magari vi servono 2000 euro al mese, ma tra 20 anni, se comprate una casa vostra, ve ne potrebbero servire 1000 perché non dovete più pagare l'affitto. Vostra moglie o marito magari saranno ricchi o magari voi avrete più fortuna e troverete un lavoro migliore, quindi di conseguenza avrete bisogno di meno denaro per vivere la vita che volete. Dovete cercare di calcolare quello che vi serve, quello che potreste spendere e agire di conseguenza, non risparmiare più del dovuto. Un'altra obiezione riguarda i figli è quello che lasceremo a loro quando andremo via da questo mondo. Anche qui Perkins suggerisce di dare denaro ai figli quando sono giovani e non dopo essere andati via, perché i figli potrebbero non aver bisogno di quei soldi quando avranno 50 anni. Potreste anche lasciargli un milione di euro, ma se loro sono sposati, hanno figli, una casa, diverse fonti di denaro, allora quella somma non cambierà granché nella loro vita. Anche i figli a loro volta hanno bisogno di quei soldi quando hanno 20 anni per acquisire appunto le loro esperienze, per comprare la loro casa, mettere su famiglia, eccetera. E lo stesso discorso vale anche per la beneficenza. I bambini poveri, l'ambiente, gli animali hanno bisogno del vostro aiuto adesso, non tra 50 anni. Quindi dobbiamo contribuire subito se siamo nelle condizioni di poterlo fare. Morire con nulla non significa non aiutare gli altri. L'idea è di aiutare prima della morte piuttosto che dopo perché sarà molto più efficace e avrà un grande impatto nel vostro presente. Come si suol dire, è meglio dare con la mano calda piuttosto che con la mano fredda. Il libro cerca come minimo di portarci a pensare a come bilanciare il nostro rapporto spesa-risparmio per vivere una vita più interessante. Perkins ci insegna che nella vita ci sono tre risorse fondamentali di cui disporremo in modo diverso durante la vita. Queste risorse sono tempo libero, soldi e salute. e questa è una relazione molto interessante. Quando siamo giovani abbiamo tempo e salute da vendere ma pochi soldi. Dai 31 ai 60 abbiamo una percentuale decente di denaro tempo e soldi. Oltre ai 60 anni abbiamo molti soldi e molto tempo libero ma non abbiamo una buona salute. Per questo dobbiamo analizzare il modo in cui gestiamo le risorse in questi tre intervalli di vita in modo consapevole basandoci appunto su questa informazione. Quindi dobbiamo decidere cosa possiamo fare tra i 18 e i 31 anni tra i 31 e i 60 e dopo i 60. Perkins consiglia di dividere la propria vita in intervalli da 5 o 10 anni e decidere cosa potete fare in ciascuno di questi periodi e cosa ovviamente desiderate fare in questi periodi. Quali posti volete visitare cosa volete comprare eccetera. Assumetevi dei rischi calcolati quando siete giovani. Perkins non ci consiglia di essere incoscienti ma di calcolare i rischi e rischiare quando siamo giovani se vogliamo avere successo nella vita perché a quell'età è più facile ricoprire le perdite se fallite se investite 1000 euro nella vostra startup da giovani avete poche difficoltà a recuperare i soldi nei prossimi anni. Se la startup però ha successo questo potrebbe portare benefici immensi in futuro ma quando siamo anziani non possiamo assumerci certi rischi perché potremmo rimanere senza un centesimo. Il libro non ci costringe a seguire questa strada ma ci offre molte idee su cui riflettere per cambiare un po' la vostra quotidianità e renderla più affascinante quindi non siete costretti a spendere tutti i vostri risparmi ma avete una sorta di alternativa su cui ragionare per portare dei cambiamenti nella vostra vita e ovviamente come cerchiamo di fare attraverso molti libri che riassumiamo in questo canale cercare appunto di migliorare la qualità della nostra vita in qualsiasi modo. Questo era il libro Morire con nulla di Bill Perkins si tratta di un approccio totalmente diverso da quello a cui siamo abituati che ci spinge a cercare di investire in nuove esperienze. Spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao